La presentazione della squadra del Santo Stefano Basket in carrozzina, anche quest'anno l'Avis sostiene questa squadra, avvio di stagione particolare perché per la prima volta lo fanno con lo scudetto cucito sulla maglia. Una lunghissima storia fatta di sport come strumento per superare ogni barriera, uno sport spettacolare da vedere, si conferma una formula vincente con le scuole, con i ragazzi delle scuole che sono i primi tifosi di questa squadra, un bellissimo progetto scolastico a Porto Potenza con grande partecipazione delle famiglie, degli insegnanti, che permette quindi di assumere dei valori positivi nel rapporto con questo sport. Un grande in bocca al lupo alla squadra e speriamo di poter rivivere anche quest'anno le emozioni dello scorso anno.